Ciao Siegfriedo Oliva! Ciao, bellissimo! Come stai? Tutto bene in America? Sì, bello! Qui a Roma stiamo bene! È caldo, è caldissimo! 38 stamattina, 30 stamattina faceva, 30 stamattina, presto! Sì! Più tardi farà 40! Tormento del cielo! Sì, proprio! Possiamo fare un giro del tuo studio? Certo, con molto piacere! Vuoi farlo con me o lo fai da solo? No, con te! Con te! Con te! Con me! Mi dispiace un po' di spagnolo della mia voce! Scherzo, scherzo! Questo è tipo l'italiano antico dell'epoca di Dante Alighieri! Ok! Con me, con me, con le voce! Mi dispiace un po' di spagnolo! La mia bella Cristina! Ah, una figlia! Cristina! Ma questa è quanti anni fa? Sì, venti anni fa! E poi penso di sì! Invece questa è un'attrice famosa! Attrice? Casta! Letizia Casta! È famosa! Ha girato un film qua dentro! E questo è Massimo Ranieri, il famoso cantante italiano! È vecchio, anche lui! Eravamo nello studio di... Da centro sempre! Un studiolo piccolino avevo... Allora... C'è una copola? Cupola! Cupola! Grazie! Cupola! Cupola! Il dialetto siciliano! E il cappello! Oh, il cappello! Cupola! Il dialetto siciliano! Pensa! Cupola! Ok! Cupola! Cupola! San San Andrea della Valle! Molto grande questa! Barocca! Sì, sì! Tu piace una cupola! Sì! Anche questa fontana dei fiumi... Piazza Navona! Piazza Navona! Sì, sì! D'accordo! Importante! Di che anno? Il Bernini 600, barocco! Sì, sì! Di Bernini! Però questo dipinto... Bernini, sì! Questo dipinto... Che anno? Eh... Dieci anni fa circa! Ok! Non so molto! Questa è Cristina! La Cristina, la figlia! Figlia, figlia, figlia! È un po' grande! Sì! Un po' più grande! Tredici anni! Tu hai una bambina... Sì! Di dieci anni! Dieci anni! Sì! È bella! Sì! Possiamo vedere una foto... Sì! In dieci minuti! Sì! I bambini di questa età! Sì! E con l'energia! Sì! Che bello! E... Ci sono studenti qui? Sì! Lunedì! 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 Lunedì e mercoledì! È mercoledì! È mercoledì! Oggi niente! Non oggi! Ecco perché l'ho detto di venire martedì! Martedì! Che fai martedì? Oh! Sì! Self portrait! Vecchio questo dipinto! Eh! E... Quanti anni fa? Eh... Dieci, quindici! Quindici? Sì! Oh! E questo invece... Sto facendo molti disperti! Questo è un addievo! E questo è un addievo! Questo è... Lavoro di uno studio... Di Mosca! Russa è! Oh! Però arriva a Roma! Is it Russian? Ah! Wow! E... Insegnante? Due... Due giorni per settimana? Solo un giorno! Solo un giorno! C'è pure troppo! Sì! Troppo lavoro! E... Sto facendo disegni... Disegni! E... Dove... Ci sono strumenti essenziali, no? Sì! E penne... D'olio? D'olio? Usa l'olio? Sì! Olio, olio! Tutto? O tutto, sì! Di tela? Sì! Mi piace molto l'olio! Sì! In acrilico non riesco a lavorare! Anche io? Non posso! E... Tu è scrittore? Scrittivo, molto! Critica o storia? Critica d'arte! Critica d'arte! Critica d'arte! Sì, sì! Però è scritto in italiano, certo? Oh no! Lo ho! Lo ho! In Stati Uniti! Sì! Sì! Però... Grazie! Prego, prego! E... E che più? No! Questa è una mostra che avevo... Oh! Una mostra che avevo ottant'anni! Per la mia mostra... Ottant'anni! Questa è... Oh! È del Cameropa! All'Euro! Ricordo... A San Giovanni! La Galleria! La Galleria! La Galleria, sì! Peccato che è lontanato da qui! Se no ci andavamo a trovarlo! A Francesco! Il Gallerista! Ah! Sì! Una domanda! Sì! Di... Ottanta anni... Hai... Ottanta? Ottanta anni... Sì! Com'è la vita dell'arte? Di tutta la vita, no? Com'è? Che... È... È... È un mare... È un... È un... Un oceano! Sì! 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 Quanti anni hai qui? In questo studio? Questo c'è... Dodici anni! Dodici? Dodici anni! Oh! Prima ce l'avevo... 12 years! Eh... A casa... Avevo una casa grande e avevo prima lo studio... In casa! Eh... Non un appartamento... Un appartamento... Dove vive? Sì! Dove abiti? No! Dove abito adesso è piccolo... È piccolo... Non posso! Sì! Oh! Capisco! Capisco! Ma... Qui a Piazza Cavour... Abitavano una casa grande... 140 metri quadrati... Mmmh! Avevano un studio bello grande... Dov'è questa casa? Ah! Piazza Cavour... Cavour! Ok! Qui vicino... Sì! Poi l'abbiamo lasciata... Siamo andate ad abitare... Tutto... In periferia... No! Non è un po' in periferia... Cosa mi piace! Ok! 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 Ti faccio vedere... I pesciolini! I pesciolini! I pesciolini! Bello! Un miscio! Un miscio! Un miscio! Un miscio! Un miscio! C'erano i pesciolini rossi! Oh! Non ci sono più! I pesci! I pesci! Sì! I pesci! Un bianco! Un bianco! In inglese come si chiama? Fesci! Fesci! Che bello! Sicurio Oliva! Grazie! Prego! Adesso andiamo al bar! Adesso andiamo al bar! Ah! Bello!